Il rinnovo del Parlamento europeo Ma la situazione è già più o meno delineata grazie agli exit poll Andiamo quindi a vedere subito come titolano i quotidiani nazionali e locali in prima pagina sulle elezioni Vince Renzi, PD mai così forte, battuto Grillo questo il Corriere della Sera I Democratici superano il 40%, i 5 Stelle perdono voti e si fermano attorno al 22 Berlusconi tra il 16 e il 17, Bene la Lega, Alfano e Spiras sono in lotta per il quorum Il successo del Presidente del Consiglio va oltre ogni previsione Serracchiani, PD, dati straordinari, premiato il lavoro del Governo Andiamo a vedere i dati delle proiezioni IPR Marketing per Rai, SWG per Sky Secondo queste proiezioni il Partito Democratico si attesterebbe tra il 41,5 e il 41,2 All'Europa del 2009 aveva incassato il 27,1% dei voti Il 21,5 secondo Rai e Sky, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia 16,5, Lega Nord tra il 6 e il 6,1, Nuovo Centrodestra 4,3, l'altra Europa con Tsipras tra il 4 e il 4,1, Fratelli d'Italia tra il 4 e il 3,5, Scelta Europea tra lo 0,7 e lo 0,8 Italia dei valori tra lo 0,6, altre liste tra l'1,4 e l'1,5 Vediamo un po' di reazioni al voto espresso dagli italiani per il rinnovo del Parlamento europeo Le urne sono rimaste aperte dalle 7 di ieri fino alle 23 Ora il Premier è un uomo solo al comando Il commento di Francesco Verderami Il duello finale sfuma con lo spoglio Titola Marco Imarisio Matteo Renzi rilancia Può partire la rottamazione L'amarezza dell'ex Cavaliere Che dice bisogna cambiare subito E adesso il voto Negli altri paesi europei Dove c'è stata la chiamata alle urne Le Pen trionfa in Francia Quindi la destra Hollande Crolla avanzata populista in Europa In Gran Bretagna Gli anti Unione Europea di Farage Primo partito Merkel in calo Ma comunque tiene la cancelliera tedesca A pie pagina Israeliani e palestinesi a casa del Papa L'invito di Francesco Peres e Abumazen Accettano Abumazen accettano Appuntamento a Roma Era l'ultimo titolo del Corriere della Sera Andiamo adesso a vedere il mattino La prima pagina del mattino Che titola così in apertura Trionfo di Renzi Grillo arretra Plebiscito PD Cade Berlusconi Francia Le Pen Boom euro scettici A Londra Indipendentisti in testa Parigi a Madrid Crollo socialista Hollande Riunione di crisi In Germania tiene la Merkel E in Grecia Vola Tsipras Ora con il mattino Andiamo a vedere I dati parziali In attesa del verdetto definitivo Che si saprà soltanto Questa sera PD 43,3% Movimento 5 Stelle 20,6% Forza Italia 15,4% Nuovo Centrodestra 4,1% Fratelli d'Italia 3,4% Lega Nord 6% Scelta Europea 0,7% Lista Ziprasse 4,3% Poi le liste minori Green Italia Verdi Per l'Europa 0,9% Italia dei Valori 0,5% SVP 0,8% Io cambio 0,2% Io cambio 0,2% Questi i dati parziali Secondo il mattino Le reazioni Pittella PD Decisiva La svolta Fatta a Palazzo Chigi Quagliariello Nuovo Centrodestra Dobbiamo ricostruire Il fronte Moderato Corbetta La protesta Non basta Ora serve Una linea E adesso vediamo Nel particolare Come sono andate Le cose Al sud Dove i democratici Sono primi Ma vince L'astenzionismo Terra dei fuochi Sciopero Delle schede Noi rassegnati Nessuno ci rappresenta Affermano i comitati Civici E adesso Cambiamo Argomento Esteri Ucciso da una bomba Ucraina Il reporter Francese Rocchelli sotto il fuoco Dei mortai Addones Morto anche L'interprete Andiamo Avanti Ho detto Reporter francese Mi sono sbagliato Reporter italiano Non licenziatemi Si suicida In casa Dram Adacerra Una cassa integrata Si uccide Con quattro coltellate Non lavorava Da ben sei anni E adesso Parliamo di Maradona Ieri per lui Delirio Sul lungomare Dove Il Pipe d'Oro Ha assistito Alla tappa Partenopea Dei mondiali Di offshore Napoli E sempre Casa mia Ha detto Il capitano Del Napoli Dei due scudetti E ora Vediamo che cosa Ci propone La prima pagina Odierna Del Roma Renzi Trionfa Sulle macerie Clamoroso flop Di Grillo Il centrodestra Diviso Maregge Nuovo centrodestra In bilico Il partito Democratico Del Premier È largamente Il primo partito Ma mezza Italia Non va a votare L'effetto Del non voto Si fa sentire Anche in Campania E a Napoli Scrive nel sommario Il quotidiano Diretto Da Antonio Sasso Oggi lo spoglio Per i 189 comuni Chiamati Al voto Nella nostra Regione Nei box colorati Due titoli Di nera Un complimento Audace Scoppia la rissa 31 feriti Il fatto In un ristorante Di volla 8 arresti Tutti Di barra Ponticelli E San Giovanni A Teduccio E poi Il dramma Di Acerra Suicida Operaia Della Fiat Maria Baratto 47 anni Era cassa integrata Da 6 E temeva Di essere licenziata Si è uccisa Con 4 coltellate Nella sua casa Di Acerra E qui In questa foto Maria Baratto L'operaia Della Fiat Che si è tolta La vita Per paura Di perdere Definitivamente Il posto Pie pagina Maradona Alla gara Di Offshore Fa il giro Del golfo Per salutare I fan Accolto Da tifosi In delirio Il pibe de oro E stato Il testimonial Della gara Di Offshore Per il campionato Xcat Saluta tutti E dice Sono a casa Mia Calcio Insigne Spera Nella convocazione Farò di tutto Per convincere Prandelli Afferma L'attaccante Di fratta Maggiore Che ha raggiunto Il ritiro Della nazionale Con maggio Punta ad entrare Nei 23 Per i mondiali L'elenco sarà diffuso La prossima settimana Andiamo adesso Ai richiami Di spalla Cambiano Le geografie Del crimine Organizzato A Napoli Mazzarella Scacciati Da tutta Forcella Comandano I Giuliano San Giorgio A Cremano Busta Con i proiettili Al consigliere Farina Di Italia Dei valori Infine Vittorio Emanuele Contributi Volontari Indispensabili Per la scuola Per il liceo Classico Napoletano Dal Roma Passiamo alla prima pagina Del dorso di cronaca Napoli Del mattino Astensione record Napoli Diserta il voto Il titolo di apertura Affluenza ai minimi storici Scrutatori Boom di rinunce Apposillipo De Magistris Ha seguito L'andamento Della consultazione Da Betlemme Dove si trova attualmente In visita Alle urne Sul filo Del 50% Alle ultime politiche Votò Il 60% Degli aventi Diritto al voto In Italia È andata peggio Soltanto Nelle isole Ma nei comuni Ma per le comunali Precisa il quotidiano Di via Chiatamone È corsa Alle urne Pomigliano D'Arco Il vicepresidente Della Camera Luigi Di Maio Al seggio In Vespa Una curiosità Che viene evidenziata Dal mattino Che poi Di spalla Riporta Questo titolo Lavoratoria Sia nelle sezioni Slalom Tra i rifiuti Volla Rissa Alla festa Di comunione 12 denunciati Al centro La foto di Maradona Sul lungomare Preso d'assalto Dai fan Di Diego Effetto Pibede oro Boom Di folla Per l'off shore Come abbiamo detto Poi Fiat La cassa Integrazione Pasta Per scadere Operaia Succidi Appoltellate Dramma Dacerra La donna Scrisse Proprio Sui problemi Di chi perde Il lavoro Non si vive Sul burrone Dei licenziamenti Si legge Nella lettera Lasciata Da Maria Il vescovo Questa economia Uccide Ha detto Il vescovo Di Acerra Ultimo titolo Della Prima pagina Del dorso Di cronaca Napoli Del mattino Caccia alla tigre Fuggita dal circo Paura Al mercato San Giuseppe Vesuviano Percorre tre chilometri Poi viene sedata E catturata La tigre Scappata Dal circo E adesso Un po' di sport Con la prima pagina Della gazzetta Che punta i riflettori Sul giro d'Italia Favola Arus Infiamma La corsa Montecampione Splendido Acuto Del 23enne Sardo Alla prima vittoria Da professionista Stacca tutti i favoriti E risale fino al quarto posto In classifica È un sogno che diventa realtà Commenta lui Nibali Lo esalta Può andare Lontano Ancelotti Reale Intervista esclusiva Della gazzetta Dello sport Al tecnico Del Real Madrid Reduce Dalla vittoria Della Champions League Dopo aver Battuto I cugini Dell'Atletico Madrid Nella gara Di sabato A Lisbona In cui il Real Si è appunto Affermato 4 a 1 Sul 11 di Simeone Del Ciolo Champions Meritata Posso aprire Un ciclo Ha chiamato Renzi Per complimentarsi Con lui Il racconto Di Ancelotti Alla gazzetta Dello sport Poche ore dopo Il suo trionfo Europeo Milan Corsa Alla panchina Emery In pole Vertice ad arco Re Berlusconi Decide Galliani Spinge Per il tecnico Spagnolo Che ha Il contratto In scadenza Ma di contro Il Siviglia È sicuro Emery Resterà con noi Fanno sapere I vertici Del club Iberico Inter Intervista A Toir Dopo le dichiarazioni E le polemiche Con Moratti Io e Moratti Diversi Ma insieme E stasera Si vedranno A cena Massimo È importante Per trovare Le soluzioni Mercato All'Inter In mezzo Serve uno Come gattuso Queste Alcune delle dichiarazioni Rilasciate Dato il quotidiano Rosa Verso il mondiale I totem A pezzi Schneider A rischio Giorente Quasi out Di aggiornamenti Formula 1 Rosberg Re di Monte Carlo Dominio Mercedes E solita Ferrari Nel principato Alonso Quarto Il tedesco Vince Guida il mondiale Ma è gelo Con Hamilton Poi basket Pistoia Ci prende gusto 2 a 2 Milano costretta Alla bella Domani al forum Dunque la sfida Decisiva Infine Sulla Gazzetta Dello sport Una finestra Sulle elezioni Europee Valanga Renzi Grillo battuto Cala Forza Italia Lega su Proiezioni Shock Dice L'occhiello Della Gazzetta Dello sport Che chiudiamo Per andare Alle pagine interne Dei quotidiani Locali Mattino Corriere del Mezzogiorno No Corriere del Mezzogiorno No Oggi E lunedì Non è in edicola Ve lo ricordiamo Quindi oggi Mattino E Roma Naturalmente Ripartiamo Dal principale Quotidiano Partenopeo Il mattino Sud È sfumato L'effetto Grillo Il PD Torna Primo Pronostici Smentiti Dunque I democratici In testa Alla circoscrizione Sud Forza Italia Oltre il 20% E questi Sono La proiezione Della ripartizione Dei seggi Al sud Partito Per partito Andiamo naturalmente A leggere Ricordando che sono Appunto proiezioni Il Verdetto Definitivo E quindi calcoli Definitivi Si potranno fare Soltanto Nella serata Allora In Italia Il partito Democratico Renderebbe 31 Seggi Al sud 6 Movimento 5 Stelle 17 Seggi In Italia 4 Al sud Forza Italia 13 Seggi In Italia 3 Al sud Nuovo Centrodestra 3 Seggi In Italia 1 Al sud Lega Nord 5 Seggi In Italia Nessuno Al sud L'altra Europa Con Cipras 3 Seggi In Italia 1 Al sud Svp Un seggio In Italia 0 Al sud Ricordiamo Sono proiezioni Ma il voto finale Non si dovrebbe Discostare Molto Da queste Previsioni Di voto Il premier In missione Più volte Per trainare La ripresa Del partito In Meridione E dunque La sua Missione È riuscita Campania Una finestra Adesso Sulla Campania Dopo aver visto La situazione Al sud Campania Forza Italia Contiene Le perdite Il caso Cosentino Non ha penalizzato Il partito Al capolinea Ma comunque La stagione Del bipolarismo In aula Non cambieranno I rapporti Di forza Alla regione Ma la strada Del presidente Caldoro Appare in salita Nelle valutazioni Dei partiti Entra anche Il rinnovo Del comune Di Napoli Che andrà In voto Nel 2016 Adesso Sempre con L'ausilio Dei grafici Del mattino Andiamo a vedere Il voto Le previsioni Di voto In Campania Dopo aver visto Quelle nazionali E quelle meridionali Allora PD 38,6% Movimento 5 Stelle 25,2% Forza Italia 22% Nuovo Centrodestra 4,6% Fratelli d'Italia 3,1% Lega Nord 0,5% Scelta europea 0,9% Lista Tsipras 3,2% Vedete come Rispetto All'europea Del 2009 E 2009 Abbia guadagnato Tantissimi voti Il Partito Democratico Che nel 2009 Incassò Il 23,4% Delle preferenze Abbia perso Tanti voti Forza Italia Che nel 2009 Aveva incassato Il doppio Il 43,5% Però allora Era PDL E non era Forza Italia Correva quindi Insieme alle altre Forze Del centrodestra E adesso Vediamo l'analisi Del voto Secondo Il Roma Mezza Italia A casa Renzi Straccia Grillo Duello Sulle macerie Boom Di astenuti PD Verso Il 40% Fallisce Il Movimento 5 Stelle Arretra Forza Italia Nuovo Centrodestra E Udc A rischio PD Vince Nel resto D'Europa Flop Movimento 5 Stelle Scusatemi PD Vince Flop Movimento 5 Stelle Centrodestra Regge Trionfo Le Pen Nel resto D'Europa Merkel Tiene Le Pen È il leader Della destra In Francia In Grecia Invece Volat Tsipras A Parigi Socialisti Spazzativi Appunto Pepe In vantaggio Partito Popolare Europeo Abbiamo detto Dell'astensionismo Altissimo Nella terra Dei fuochi Sciopero Delle schede Crollata All'affluenza In tutta l'area Nessuno ci rappresenta Siamo stati abbandonati Dicono I movimenti Ad Acerra Caevano A Fragole Quali hanno I numeri più bassi Della regione Continua l'emergenza Anche nella giornata Elettorale Sono divampati Senza sosta I roghi Non si riesce Proprio A frenare Ed ora Una finestra Su Napoli PD Un trionfo Ma affluenza Ai minimi storici Democratici Primo partito Grillo Tiene Alle urne 4 su 10 Elettori Scrutatori Questa è una curiosità Che vi voglio dare Assenze bulgare Record Di rinunce A posillipo Alla scuola Della valle Da forfello 80% Dei convocati Paga esigua Troppe responsabilità Afferma Chi ha rinunciato Le reazioni Ora Una nuova fase In città In regione Nel capologo I democratici Avanti di 10 punti In un anno Tartaglione E rinnovamento Vero Afferma Il leader Regionale Del PD Delusione E rabbia Invece Nel bunker Dei grillini Attesa In un locale Del vomero Ma il festeggiamento Sfuma Non appena Arrivano I primi Exit Poll Si consola Invece Forza Italia In campagna Resistiamo Azzurri al 21% Meglio Che in altre Regioni Pentangelo Presidente Della provincia Abbiamo giocato Senza il nostro Maradona Ovvero Berlusconi Che non ha potuto Candidarsi La lunga notte Nel quartier Generale Di Piazza Borsi Militanti A presidio Dei seggi Evitare Brutte sorprese Il diktat La boccetta La boccetta Ma Bruxelles A destra Grazie All'epen Desiano Leader Regionale Di Forza Italia L'astenzionismo Europa Lontana dal sud Anche per Questo E ora un po' Di Anticipazioni Sulle elezioni Comunali Da Ischia A Pomigliano Tanti euro Candidati Ma l'astenzione Avanza Boom del PD A Ischia Pozzuolo E Castellammare Forza Italia Per deposizioni I grillini Non decollano E poi la foto Di Di Maio Vicepresidente Della Camera Che arriva in Vespa E senza scorta Al seggio Effetto Astenzione Anche a Napoli E già si guarda Alle regionali Titola così Sull'astenzionismo Il Roma La corsa Al sindaco Infiamma Le urne La corsa Al sindaco Infiamma Le urne Scrive poi Il mattino Danola a Pompei Percentuali D'affluenza Confermate Rispetto Alla consultazione Alla consultazione Precedente E ora Dalla politica Passiamo Alla Visita Di Maradona A Napoli La domenica Dei villaggi Tra Maradona E il caos Sul lungomare Si è svolto La tappa Napoletana Dei mondiali Di Offshore Presente Diego Armando Maradona Eccolo qui Al suo Arrivo In Via Caracciolo Dove ha assistito Alla gara Dal villaggio Vip Dove ha poi Premiato Il vincitore Batticuore Maradona Il titolo Dell'altra pagina Del mattino Dedicata alla visita Del PIB E questa Casa mia Ha detto L'argentino Un ospite D'onore Alla tappa Offshore Intanto Diego E gli emiri Studiano Investimenti A Napoli Una puntatina Alla gazzetta Dello sport Che dedica A questo titolo Alla visita Di Maradona A Napoli Maradona torna Nella sua Napoli Qui è casa mia Folla in delirio Per Diego Ospite Dello scelico Dello scelico Alzaiedda Una gara Di offshore Pizza fritta Mare Frecciate Qualcuno Non mi voleva Ma ecco Mi ha detto Diego Che non ha peli Sulla lingua Diego Sono tornato A casa mia Scrive Il Roma E a Napoli E Napoli Va in delirio Sommese Il PIB Ambasciatore Della passione Sportiva Azzurra Ha detto L'assessore Cronaca Nera Facciamo un salto Nella cronaca Nera Rissa Alla festa Di comunione In ospedale Anche i bambini Due famiglie Si affrontano Durante il ricevimento Otto Arresti A scatenare il duello Un probabile Complimento A una donna O un litigio Tra i bambini Pugni E coltelli 15 I feriti Convulsioni Per una Tredicenne Insomma Doveva essere Una festa Rischiato di trasformarsi In una tragedia Questa comunione E ora il dramma La disperazione Si è tolta Nella vita Non posso vivere Ancora così Ha scritto Aveva scritto In una lettera Pubblicata sul blog Comitato Mogli Operai Fiat Prima di chiudersi In casa E di ammazzarsi Con 4 coltellate Maria Maria è stata Assassinata Dai padroni Denunciano I Cobas Che annunciano Per mercoledì Un presidio Davanti Alla regione Campania Sale La tensione Aumentano Le disdette Sindacali Il lungo Stato Di crisi Della Fiat Di Pomigliano Aumenta Lo sconforto Nei dipendenti Titola Il titolo Di piede Nella pagina Dedicata Alla tragedia Al dramma Di Acerra E adesso Sanità Cardarelli SOS A Roma Siamo pochi Chirurgia D'urgenza Denuncia Dei dipendenti Qui ormai È come Auschwitz E Granata Scrive al ministro Poteri speciali A Caldoro Per far fronte All'emergenza Monta la protesta Degli infermieri Titola Il Roma Uno striscione Esposto All'ultimo piano Di chirurgia D'urgenza Paragona Il reparto Ad un Lager Ne approfitto Anche per dare Un aggiornamento Sulle condizioni Di Ciro Esposito Il tifoso Azzurro Ancora ricoverato Al policlinico Gemelli Di Roma In seguito Alle ferite Riportate Negli scontri Prima della finale Di Coppa Italia Tra Fiorentina E Napoli Scontri In cui è stato Ferito A colpi Di pistola Dall'ultra Gialorosso Daniele De Santis Ciro Migliora Dice il bollettino Medico E i genitori Cominciano Veramente A sperare Porto Lavori sprinti In tre cantieri Corsa contro il tempo Per spendere I 154 milioni Di fondi europei E rilanciare Lo scalo Partenopeo Infine Donna morta Dopo il parto Successo Sabato La neonata Superstite Di appena 600 grammi In condizioni Stazionarie Con la mamma Lo ricordiamo Sono deceduti Altri due Gemellini In infezione Probabilmente Nella causa Della morte Di mamma E figlie E ora Un po' Di sport Dopo tanta Cronaca Naturalmente Parliamo Di calcio Mercato Porta Iberica Napoli Per il dopo Reina Spunta Il nome Di Diego Lopez De Laurentiis Ha presentato L'offerta Al Liverpool Ma il club Contatta Anche Il Real Madrid Secondo La stampa Francese Il PSG È interessato All'esterno Algerino Goulam E Berami Dice Il campo Dell'Inter Più vicino A casa Mia Insomma Tanta carne Al fuoco In questi Primi giorni Non ufficiali Di calcio Mercato La cui Apertura È a giugno Benitez Vuole un big Per il centrocampo Anzi meglio Due Scrive Sulla prima pagina Di Sportil Roma L'allenatore spagnolo Vedrà di nuovo De Laurentiis Insisterà Sull'esigenza Di prendere Almeno Un grande giocatore Per la mediana Mascherano Xavi Martínez E Mario Suarez Le prime Scelte Intanto In signe Maggio Si giocano La loro chance Di andare Ai mondiali In Brasile Riprendono Oggi Gli allenamenti A Firenze Degli Azzurri A fine settimana Prandelli Deciderà I convocati In signe E maggio Aspettano Il verdetto Scrive Il Roma Che poi Riporta Questa proposta Di Pasqualin Procuratore Di calciatori Vogliamo Portare Il calciomercato Alla mostra D'oltremare Attualmente Le trattative Si svolgono All'Ata Hotel Executive Di Milano Primavera Il tecnico Il tecnico Saurini Resta In vetrina Agli Azzurrini Lasischi Romano E Tutino Bilancio In chiaroscuro Per i giovani Del Napoli Ma la società Scelto per la linea Della continuità Dunque si affiderà Ancora A Saurini Fair play Finanziario Il Napoli Tiene duro A dispetto Di multe e sanzioni Il PSG Ricapitalizza E spende 50 milioni Per un difensore De Laurenti Samareggiato E adesso Serie B Ieri la trentesima giornata Del torneo cadetto Avellino Batte Travolge La regina E ci crede ancora Crede ancora Nei playoff Juve Stabia La Juve Stabia Fa divertire anche Il Brescia 4 a 1 Il risultato Finale Della partita Benevento Maledetti Playoff KO a Lecce I giallorossi Accompagnati in Puglia Da un migliaio di tifosi Che hanno applaudito La squadra A fine gara Ma per Il benevento Finisce L'avventura Dei playoff Infatti Titola in Roma Il sogno Promozione Si interrompe In via del mare E questo Amici telespettatori Era l'ultimo titolo Della nostra Rassegna Stampa Che torna Come di consueto Domani alle 7.30 Prima di lasciarvi Alla trasmissione di Radio CRC Barba e Capelli Vi ringrazio per l'attenzione Vi auguro una buona giornata E una buona settimana Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti